All'istituto farmacologico Mario Negri di Milano, un laboratorio porta il nome di Giulio e Giovanna Sacchetti come ringraziamento per il continuo sostegno della fondazione. La ricerca scientifica ha soprattutto in Italia grande necessità di appoggio dai privati perché l'Italia ha la metà dei ricercatori della media europea e per la ricerca si spendono in Italia circa l'1,2% del prodotto interno lordo rispetto per esempio al 3,5% della Germania. Il supporto della fondazione Sacchetti si è realizzato soprattutto nel campo delle neuroscienze, sostiene anche una borsa di studio di giovani che avranno poi la possibilità di ottenere il titolo di dottore in ricerca o di PhD. Finché c'è gente che studia, come studiano loro, come si dedicano loro, perché anche quella è una vocazione e bisogna usarli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.